ciao a tutti amici di altro sguardo benvenuti in questo nuovo video oggi siamo quando sto registrando questo video è il 12 marzo non so quando vedrete questo video ma questo video aprirà la stagione 2023 2024 dei parchi di divertimento di altro sguardo ogni anno ne faccio uno dove apre la stagione e lo faccio perché perché lo capirete subito dopo la sigla ecco qua subito dopo la sigla come vi avevo promesso adesso vi spiegherò tutto nel dettaglio come sempre vi dico iscrivetevi al canale attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta se dice un nuovo video e sì 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 oggi apriamo aprirò con questo video che sto registrando il 12 marzo che però non so quando lo vuoi lo vedrete aprirà questo video aprirà la stagione dei parchi 2023 2024 perché vi voglio spiegare cosa cambierà quest'anno altro video dove io vi parlavo dei parchi di divertimento apriva la stagione estiva 2023 e 2022 2023 dove vi spiegavo che dovevo andare a disneyland io sono stato a disneyland avete visto i video e spero che vi sono piaciuti ma fino ad ora ho adottato il vedo e non vedo vi mostro quello che è più necessario quel ora quest'anno cambierà un po tutto nel senso che vi mostrerò sempre quello che riesco perché comunque non sempre a volte ci si riesce a fare quello che vuoi anche perché io vado da esterno non nessuno mi paga nessuno mi regala il biglietto nessuno quindi e nessuno mi fa andare avanti nessuno mi fa mi dà la mi fa fare le riprese in modo particolare quindi comunque quel che riesco mi porto però al di là di questo e al di là di questo quest'anno i barchi video saranno diversi nel senso che ci saranno meno stacchi sarà molto molto semplice nel senso che non ci saranno molti stacchi nello stesso momento girerò mostrerò sarà molto più fluido nel senso curato sempre perché i miei video tutti sono curati ma non sarà un video montato in modo come ho fatto spesso in rallenti cose cioè se io cammino nei viali nelle parchi di solito sempre fatto la velocità la velocità aumentato la velocità o qualche cosa l'ho fatta con slow motion ok nei prossimi video non sarà così magari qualche volta farò qualcosa del genere magari per arricchire comunque lo farò però quando io cammino vi mostrerò il parco vi mostrerò quel che riesco chiaramente ma cercherò di portarvi un po di più di come ho fatto finora anche se comunque vi ho portato tanto però vuole voglio cambiare qualcosina quindi la gestione dei parchi concludo questo video dicendovi che oltretutto in arrivo ci sono ben due parchi oltretutto ve ne parlerò in un video dedicato ma sto parlando di di cinema quindi di cine città world e roma world che non si tratta c'è uno si tratta di parco divertimento inerente al cinema e poi roma world e un cinema e un parco più tema roma però questo ve ne parlerò non di video dedicato che voglio fare a breve presto spero non questa location cambierò location in questo quel video e niente detto questo ciao a tutti al prossimo video di oltre lo sguardo spero che questi queste informazioni sono state utili per sapere come oltre lo sguardo continuerà quindi ciao alla prossima bye